Allora ragazzi, oggi ultimo giorno dell'anno, quindi voglio augurare buon anno a tutti per l'inizio dell'anno prossimo. Vi lascio al nuovo video dicendovi semplicemente grazie per aver creduto nel canale di Hashtag Tio03, per come sta andando e per come si sta ingrandendo. Vi volevo ringraziare, adesso vi auguro buona visione e vi lascio al video dopo aver fatto lo shopping di fine anno. Va bene? Go! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.